Scendono in piazza le piccole imprese, a Chieti si pagano troppe tasse. La manifestazione di protesta è stata organizzata per mercoledì 22 gennaio da Casa Artigiani, CNA, Conf Commercio, Conf Artigianato e Conf Esercenti. I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno incontrato il sindaco Umberto Di Primio che li ha ricevuti assieme all'assessore alle attività produttive Antonio Viola e al dirigente del settore commercio Angela Falcone. Sul tavolo la crisi del commercio in città e la regolamentazione dei tributi locali. L'amministrazione comunale non è sorda alle richieste degli esercenti né distante dalle esigenze dei singoli associati, ha detto il sindaco. Oggi un incontro sereno a cui ne seguiranno altri per programmare priorità e obiettivi condivisi. Con i commercianti il sindaco ha affrontato anche la questione della salatissima Tares 2013. Le bollette esose hanno una causa antica, sono state aumentate, ha spiegato Di Primio, per sanare gli oneri post chiusura della discarica di Casoni che il comune di Cheti non aveva versato dal 2007. Il sindaco ha quindi anticipato a tutte le associazioni di categoria la volontà di approvare quanto prima il nuovo bilancio previsionale per regolamentare fin da subito le future tassazioni locali che saranno senz'altro più contenute di quelle attuali. Abbiamo soprattutto iniziato a stabilire un percorso che io voglio fortemente che è quello della condivisione delle scelte e soprattutto la condivisione dei progetti da fare per la città. Abbiamo ovviamente parlato di tributi e tasse locali, ho anticipato loro che è mia volontà adottare il prima possibile il nuovo bilancio di previsione così da avere anche modo di abbassare la tassazione che quest'anno abbiamo dovuto sopportare per problemi che riguardavano in particolar modo il passato e oltremodo ho detto loro che è mia volontà sottoporre alla loro attenzione così anche da verificare se ci siano possibilità di rimodulazione dei tributi e mia intenzione fornire loro un quadro di quelle che sono le proiezioni sulle tributi locali che andremo a stilare nei prossimi giorni con gli uffici competenti. Parleremo anche della programmazione degli eventi parleremo delle infrastrutture parleremo però ho tenuto a dir loro delle cose che io posso fare non di quelle che farò per quelle che farò le tengono un altro momento della della vita amministrativa e politica. Grazie. 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 Grazie.